Non ci sarà nessun salvagente per i balneari. La Commissione Finanza e Giustizia della Camera ha respinto tutti gli emendamenti al decreto infrazioni che puntavano a riconoscere concessionari che perdono lo stabilimento all'asta un indennizzo pari al valore aziendale, proposte presentate dai partiti di centro-destra, ma anche da forze di opposizione, su pressione delle maggiori associazioni di categoria. Il testo, dunque, che entro giovedì sarà votato alla Camera, ma blindato dal voto di fiducia, resta quello d'inizio settembre, varato dal governo Meloni e concordato con la Commissione Europea e che prevede la messa a gara delle concessioni entro il 30 giugno 2027 e il riconoscimento di un indennizzo pari soltanto agli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni ma non ancora ammortizzati, briciole rispetto al valore effettivo di ogni singolo bagno. La tagliola sugli emendamenti era nell'aria dopo lo stop diffuso nei giorni scorsi da Bruxelles. L'Unione Europea giudica le modifiche proposte come un vantaggio improprio per i balneari uscenti. A sorpresa gli unici a salvarsi dalla Bolkestein sarà nei circoli sportivi. È rimasto in piedi, infatti, l'emendamento che esclude le associazioni sportive dilettantistiche titolari di concessioni, un provvedimento che però in Versilia interessa soltanto club velici e simili e che si contano sulle dita di una sola mano.